guardate chi abbiamo quanti cani arrivano in canile alla terza lei è uva una randaggina giovanissima del territorio di ginosa molto simile a un border collie allora lei girava girava per la strada con un altro cagnolino nero di nome alfio che poi vi presenterò chissà se provengono tutti dalla stessa situazione non lo sappiamo comunque lei è stata portata in canile perché a sei mesi potrebbe andare a breve in calore e che succede che facciamo cuccioli per la strada anche no quindi è entrata per la sterilizzazione soltanto che siccome è tanto buona carina gioca con gli altri cani un amore un angelo guardate quanto è giovane si è pure spezzato il canino guardate il canino giovanissimo ecco siccome è tanto buona e tanto dolce noi vogliamo fare un tentativo di metterla in adozione è troppo carina troppo simpatica uva dove sei insegue angela vieni amore vieni 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 fatti vedere dai 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 fatti vedere amore fatti vedere eccola qui eccola qui come si fa ad adottare una cacciolona così bella come si fa le ho messo il nastrino rosa per farvela vedere in tutta la sua bellezza allora lei sicuramente ha qualcosa del border però ha poco bianco sapete che nel border c'è molto più bianco ma è una meticcia taglia media perché crescerà giusto un altro pochino pochetto proprio come può crescere un border colli ecco mi piace questo tesorino vi piace la devo ributtare per strada o le devo cercare una famiglia fatemelo sapere tra i commenti e mi raccomando perché commentando li fate girare tantissimo il canale va alla grande e la gente mi chiede cani in adozione quindi dipende da voi anche chi non può adottare con questo semplice gesto di mettere mi piace commentare e magari di iscriversi al canale se ancora non l'ho fatto aiuta indirettamente i nostri pelosetti i nostri pelosetti che finiscono qui rinchiusi che non è proprio un hotel a 5 stelle questo però si fa il possibile per farli stare bene guardate che amore non sta fermo a farsi fare le foto amorellina che c'è che c'è uva uva guardatela mamma mia quanto sei bella quanto sei bella quanto sei buona chi ti adotterà sarà veramente fortunato ad averti trovata mentre chi ti ha abbandonato non capisce niente non è stato in grado di proteggerti niente ti ha lasciato sola sola allo sbaraglio sei bellissima adottatela è troppo dolce uva ciao amore grazie grazie